Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di The Sandman Allora, ci siamo lasciati con io che ho paura come al solito Però dai, devo andare avanti e dobbiamo cercare la nostra amichetta Però il problema è che non so dove, cioè in teoria sappiamo dove, però non sappiamo dov'è Il posto, vabbè queste sono tutte camere dei dormitori credo, quindi non dobbiamo cercare qui Anche queste credo che siano camere, sì appunto E quindi io vado a vedere tipo qui, no una classe Questa è la caffetteria Forse è lì, forse è sopra perché prima non ci facevano andare Oddio regà Il mio telefono, scusate, è perché è attaccato al computer Una classe, sono tutte classi Music room, qui La chiesa Ah, la nostra amica, che bella, aspettate, salviamo Speriamo che sia viva soprattutto Voglio passare Credo sia la nostra amica Sophie Anne, sei bene, oddio che bello, che funziona Sì, infatti Sophie Perché sei qui? Le cose si sono fatte strane in città Tutti si sono addormentati Quindi Ero preoccupata per te Avanti Anne Andiamo fuori di qui C'è Un mio amico che mi sta aspettando fuori Chissà cosa sta succedendo Dovremmo rimanere uniti No, cosa no? Non voglio andare Perché no? Ma... Regà, ma sta fuori di capoccia Ho paura No, ma sta fuori di capoccia Mi inseguiranno di nuovo? Loro Avanti Anne Va tutto bene Non vedo persone strane Oh, cazzo No, no, no Ma... Guarda Questo mio amico È un ragazzo di cui ci possiamo fidare Ci proteggerà Anche se ci sono Tizi strani Quindi Vieni con me Posso salvare, per favore? Non mi piace la storia Di cui mi inseguiranno No Voglio salvare No, regà Vi giuro Se c'è qualcuno che mi... No Io mi rifiuto categoricamente Di vivere proprio Cosa? Dove stai andando? Piccola bugiarta Ma... Tua madre! Ma che vuoi? Non di nuovo Ma che cazzo... No, regà Questo è seriamente inquietante Stai correndo via di nuovo Giusto? Sei veramente una bugiarda Che cazzo... Le bugiarde Devono essere punite Ma... Regà Che ti succede? Ah no Chi siete voi? Andate via da Anne Non... Perché? Perché ha parlato? Perché ha parlato? Perché? È una bugiarda Non è vero? Una bugiarda... È brutto essere una bugiarda Quindi Deve essere punita Un po' ripetitivi queste persone Non ho idea di cosa intendiate Però allontanatevi da Anna Ora Anna È ora È mia amica Capisco No Sono secondo anche a noi Sicuro Sicuro come l'aria proprio Anche tu sei una bugiarda? No 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 Ma che cazzo Dai Perché? No Dai Non mi va Non mi va Di essere inseguita Anche noi diventeremo bugiardi Ma che cazzo No Vabbè Regà Povera Anne Ma Dove avete portato Anne? Chi lo sa? Dovresti saperlo Ridatemi Anne Dove Dove è andata? Deve essere andata a casa Bugiardo È una bugia L'avete portata via? E allora Perché non vai a cercarla? Non inseguitemi Vi prego Però ci hanno aperto le porte Cosa? Vai a dare un'occhiata Trova la tua amica Ma Tu hai parecchio tempo? Che cazzo? Anne Dobbiamo salvare Questa cosa Non mi piace Oh Non abbiamo tanto tempo Per trovare Anne No regà Non mi piace per niente Questa cosa Ma se li analizziamo Dice Va bene Se non la trovi Non ti devi preoccupare Ma Regà Ho sbagliato Andare un po' a caso Comunque Vabbè Allora Facciamo una cosa Andiamo con ordine Al massimo Non la troviamo Ma Devo analizzare I tipi Perché non ho capito Che ansia Però La vita Aspettate Non è che è qui Da qualche parte Oddio Spingi Forse è qui Sì è qui Regà Come cazzo ho fatto? Bugiarda Sei un incredibile Bugiarda Ma che Dai Che fai Come fai a mentire Con Cioè Come fai a continuare A mentire In questo modo Doresti Semplicemente Scomparire Non me la fate Di scomparire Di nuovo Se no Non mi cazzo Anne Dai Però Non ci Ah Ci ho trovato Come cazzo ho fatto Come cazzo ho fatto A trovarla subito Cioè Vi giuro Vi giuro Su quello che volete Che non ho visto Non ho visto Gameplay Non ho visto nulla Di questo gioco Non l'ho neanche giocato io Cioè Non lo so come ho fatto A trovarla Però ok Anne Stai bene Non ti hanno fatto Nulla Vero Sophie Bene Suppongo che tu Non sia ferita Anne Usciamo di qui Subito Non sono sicura Di cosa stia succedendo So solo che È strano Alzati Anne Potremmo Potrebbero tornare indietro Se non ci sbrighiamo Muoviti però Ah e voglio salvare Mi fai salvare Oddio perché Cosa Bugiarda Cosa Sanno Ah cosa sono Forse No È impazzita questa Anne Aspetta Anne Non andare È pericoloso No Basta Devo andare a casa Fammi andare a casa Fammi andare Ma Che infame Mi dispiace Sophie Ero spaventata Anne Anne Posso salvare Perché Dopo che ti ho trovata Sei corsa via Evidentemente Mi devo dimenticare di Anne Vai a piangere da sola Se vuoi Salviamo No raga Però non mi va Di lasciare Anne Da sola Poi non Non so se ci sono Vari finali A questo gioco Quindi forse Se lasciamo Cioè se ci sono Sicuramente Qualcosa è legato Al Al lasciar perdere Anne Tra virgolette E sinceramente Non mi va E lei No eh Se andiamo In camera sua Ah Questa è camera sua Secondo me Però non la troviamo Non ne ho idea Comunque io Vabbè A sto punto esco Perché Sì ok Quindi L'hai risolto In questo modo Ah Quindi si risolve In questo modo Capito Ah Ho capito Ha senso Sei molto intelligente Sofì Non riesco Neanche a fare I miei compiti Sono invidiosa Sei sempre così calma Così matura Così intelligente E sei anche Molto simpatica E se fossi Io quella Che Regan Sta bullizzando Sicuramente Non sarei Abbastanza coraggiosa Non avrei Il coraggio Di venire a scuola Vorrei essere Come te Sofì Gli insegnanti Mi dicono Sempre di Ah Dicono sempre Di fare Del tuo meglio En E Devo Essere D'accordo Sei molto meglio Di me Ah Dicono che tu Fai del tuo meglio Ok Mi dispiace Sofì Perché Non ti ho mai Salvata Da Regan E i suoi bulli Voglio aiutarti Ma ho troppa paura Quindi So semplicemente Lì a guardare Mi dispiace Veramente molto Guarda Non importa Non dovresti En Non dovresti Preoccuparti En Sono Semplicemente Felice Di stare Insieme In questo modo Grazie Sei la mia Migliore amica Sofì Secondo me No l'ho trovata Ma È corsa via Corsa via Cosa intendi Ho Il presentimento Che non mi crederesti David Delle strane ombre nere Cosa potrebbe Cosa potrebbe essere stato Non ho visto Dobbiamo fare nulla Dobbiamo fare nulla Dobbiamo continuare a cercare gli altri Forse troverò qualcosa Troveremo un modo di risolvere tutto Sofì Perché deve fare Ho detto di no Grazie Grazie Ti voglio bene Non posso lasciarti da sola Chi può dire cosa succederà Succederà Va tutto bene Ti darei solamente fastidio David Vado Mi sento molto più al sicuro con te vicino Va bene Ma almeno dimmi dove andrai Io pensavo di controllare a west S Ah no sarebbe ovest credo Sì sarebbe ovest Ok Praticamente lui pensa che le persone sveglie Potrebbero essere tutte insieme in un punto Cerca di rimanere fuori pericolo Ok Torna in questo parco appena finito Va bene Ho capito E io direi di concludere qui Questo episodio Io spero che vi sia piaciuto Lasciate un like Un commento Se vi è piaciuto E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti